Sta zitto adesso Cosa? Hai oltrepassato i limiti, Barney Voglio solo finire questo barney Niente, il contrario se lo finisci da solo Metti giù le mani, non toccarmi Calma, Kijia Non mi calmo affatto, voglio che quest'uomo esca di qui immediatamente Non toccarmi Non sei riuscito a ucciderti, ma io non sbaglierò Che fate? Fermatevi! Fermi! Fermi! Basta, fermatevi! Ma sono tutti impazziti Che vuoi fare, tu? Ray, dammi una mano, portiamolo fuori Via, portatelo via Me ne vado, me ne vado Neobriaco Ok